Presidente Lorenzo Conci, la 3-3 a Milano è sempre una grande festa, è sempre una grande accoglienza. Sì, grandissima. Sono emozionato perché la sala era piena, c'era tantissima gente, tantissima gente che ci vuole bene e che non vede l'ora di poter testimoniare il suo affetto verso Campiglio quando noi ci presentiamo a Milano. La Coppa del Mondo a Campiglio è tornata da qualche anno, ma è un entusiasmo che continua a crescere anno dopo anno. Sì, cerchiamo di mantenerlo e di continuare a farlo crescere. Non è facile, però è sorprendente come si riesca a farlo, quindi vuol dire che è possibile e per noi è assolutamente l'obiettivo, cioè non fermarci, continuare a sfruttare questo momento e crescere sempre di più. La storia di un grande evento, una storia di 65 edizioni, ma Campiglio cerca di continuare a proporre innovazione. Bisogna, bisogna assolutamente stare al passo con gli altri, sviluppare quella sensibilità in base alla quale si riesce a capire da che parte tirerà il vento prima che cominci a soffiare. Quindi bisogna visitare la tre gare Coppa del Mondo, essere all'avanguardia senza sapere cosa succede nell'ambito della FIS e allora poi si riesce anche a essere i primi su certe cose. Una chicca per questa 65esima 3-3, il ritorno dal passato di questa splendida maglia fulmine. Sì, la maglia fulmine è una cosa che mi emoziona perché è stato bellissimo essere in grado di riportarla a galla e se non trovavamo un partner come Falconeri non sarebbe stato facile o tantomeno probabilmente non sarebbe stato possibile e quindi siamo veramente entusiasti ed emozionati di riportarla. Grazie.